E' Mattelica-Vastese il big match che domina la sesta giornata di Serie D. La partita che si giocherà nell'impianto del comune maceratese opporrà due delle tre battistrada del girone F. A Mattelica la squadra di Colavitto sarà sostenuta da 200 tifosi che affronteranno la lunga trasferta. Alcuni pullman sono stati messi a disposizione dalla società. Lo scontro al vertice sarà anche una sfida nella sfida tra i due principali cecchini del girone, il matericese Manuel Pera e il vastese Umberto Prisco, entrambi a quota 6 gol segnati. Ma tra le due litiganti potrebbe godere la terza battistrada, specie in caso di segno X. L'Olimpia agnonese di Alessandro del Grosso se la vedrà con il derelitto Chieti, che difficilmente potrà ostruire la marcia della squadra molisana che mira al quarto successo consecutivo. Trasferta vietata ai residenti in Abruzzo. A Chieti, dopo cinque sconfitte e una valanga di gol subiti, più che altro continuano a tenere banco le questioni societarie con gli ultras che dopo l'incontro avvenuto in settimana hanno sollecitato il sindaco a indagare sulla consistenza del progetto calcistico del patron Giacomini. Cercano il cambio di passo Pineto e San Nicolò. La compagine adriatica si è rinforzata con gli innesti di Straccia e Ragazzo, i quali saranno a disposizione del tecnico a Mazzalorso, ma difficilmente giocheranno dal primo minuto del match di domani con la San Maurese. San Nicolò è in trasferta sul difficile campo della Recanatesia e ancora alla ricerca del bandaro della Matassa per dare una svolta positiva al difficile avvio di stagione. Nelle gironi e giri due abruttesi sono reduci da sconfitte. Anticipa le 14.30 l'Avezzano sul campo della Nuorese, squadra ben attrezzata e che in settimana ha infoltito l'organico tesserando 2.97, il centrocampista De Simone dal Napoli e l'attaccante argentino Lissasso. I marsicani provano a tacitare una settimana difficile dopo il K.O. inopinato col Muravera e lo sfogo del presidente Paris. Contro il Lanusei, squadra di seconda fascia del girone, l'Aquila andrà a caccia della prima vittoria a Casalinga, anche se il tecnico Morgia dovrà rinunciare al portiere Salvetti e l'attaccante Bonvissuto, infortunati, recupera in extremis Gagliardini, sarà a Ganci a guidare l'attacco.